Mister Capuano, ennesima trasferta in questo primo scorcio di campionato, si va a Giuliano, il Taranto ha una media di 1,87 punti a partita con una gara in casa e 4 in trasferta. È la sesta trasferta consecutiva che facciamo, però oramai ho deciso di non... ma anche per mia indole, anche noi non cerchiamo alibi, andremo a fare un'altra partita molto impegnativa, siamo rientrati giovedì sul tardissimo, intorno a mezzanotte, oggi ripartiamo, nulla, purtroppo è questo, è inutile piangerci addosso, penso che abbiamo avuto modo, spazio, tempo di preparare la partita su una squadra che ho totale disconoscenza, avendo cambiato l'allenatore da due o tre giorni, quindi non abbiamo codici precisi né sulla struttura che possono giocare, né dagli uomini che possono interpretare la gara, sono solo convinto perché conosco facendo questa categoria da tanti anni che hanno tanti giocatori importanti, tanti giocatori esperti, quindi sono un'ottima squadra con un allenatore importante. Si parte col tridente? Questo lo valuteremo, ho sempre detto che questa squadra può giocare con diversi moduli, essendo una squadra camaleontica, avendo diversificazioni di giocate inerenti agli interpreti che ho preso, qualcuno ha detto Francavilla il primo tempo, io non trovo mai giustificazione, però poi parlare tanto per parlare dietro un computer o magari vedendo e non sapendo è molto facile per chiunque, io penso che il dottore, che è un ginecologo, non tutti possono parlare di ginecologia, come nessuno può parlare di traumatologia, se non avendo un'idea così lata, non intrinseca, e invece nel calcio parlano tutti ed è giusto che sia così.